Mondoflec, siamo nel punto vendita di Castelmella. Vi aspettiamo con una nuova collezione di materassi che nasce dal culto del riposo, della natura, del benessere e dell'amore per il lavoro artigianale. Tante promozioni sono raddoppiate con sconti fino al 60% e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto con pagamenti rateali senza interessi. Visitate i nostri negozi, abbiamo ampliato l'esposizione di divani alta qualità artigianato italiano, divani comodi dove poter trascorrere le vostre serate. Mondoflec fa la differenza, vi aspetto!